Importante convegno presso la scuola media ventriglia di Piedimonte Matese davanti a numerosissimi studenti, docenti, istituzioni locali giunte dai vari comuni dell'Alto Casertano e l'onorevole Gianni Tonelli della Commissione Antimafia. In una importante giornata sulla legalità e la sicurezza stradale non poteva mancare la presenza della Polizia di Stato. Proprio dalla relazione di quest'ultima sono emersi numeri impressionanti sugli incidenti stradali, con le maggiori cause dovute ad alcol o droga e telefonini mentre si è alla guida. Ma dell'importanza di insegnare la legalità nelle scuole e del tema della sicurezza dovuta anche alla criminalità e le nuove mafie come quella nigeriana, la nostra fortuna natale ha sentito l'onorevole Gianni Tonelli della Commissione Antimafia. Sentiamolo. Quanto è importante parlare oggi di legalità e sicurezza nella scuola, nelle scuole? È fondamentale non soltanto di legalità, di sicurezza e di quello che è il rapporto fra i cittadini e lo Stato. La sicurezza, come diceva Montesquieu, è il primo dovere dello Stato moderno. In un contesto di sicurezza noi siamo in grado di promuovere qualsiasi progresso materiale e morale di una società e quindi si deve comprendere che essendo un bene comune tutti abbiamo l'obbligo, il dovere, per proprio nostra convenienza e interesse, a dover partecipare a questo. Quindi è chiaro che questo sforzo deve essere fatto soprattutto nei riguardi dei giovani perché sono loro che rappresentano il futuro del nostro paese. Benissimo. Per quanto riguarda invece la mafia nigeriana che è diventato un problema, una piaga, sappiamo tutti la situazione di Castelvolturno, quello che sta succedendo in quel territorio. Il governo che cosa si propone di fare, che cosa sta facendo per questa situazione? Questo è attenzionato massimamente. Tra l'altro in Commissione Antimafia abbiamo creato anche un comitato proprio per fare questa verifica. Su tutte le mafie straniere, non soltanto quella nigeriana, ma quella nigeriana posso assicurare per esperienza professionale. Ho avuto in passato quando ero un giovane poliziotto a Ferrara, 30 anni fa, nell'88, il primo contatto. Oggi mi rendo conto di che cos'era. Il primo sforzo che dobbiamo fare è far comprendere che questo oscurantismo verso determinati fenomeni sono assolutamente devastanti per la nostra comunità. Qui non c'entra nulla una posizione ideologica, non deve entrare nulla. La mafia nigeriana è entrata a gamba tesa, purtroppo oramai dopo 30 anni nel nostro paese, gestisce la prostituzione, in certezone lo spaccio, addirittura traffico d'organi, traffico di esseri umani. Sono situazioni devastanti e tende a prendere sempre più piede. Quindi è un fenomeno che va assolutamente arginato, è massimamente all'attenzione. Il governo creerà delle squadre specifiche all'interno dei nuclei di polizia giudiziaria nelle varie questure proprio per interessarsi delle mafie straniere, soprattutto quella nigeriana.